Una fiera che vuole provare a mettere in crisi le certezze di partecipanti e visitatori all'insegna di una nuova forma di esperienza e relazione con ciò che definiamo arte contemporanea. È ambizioso il presupposto su cui è nata l'edizione 2022 di Artissima che torna a Torino negli spazi dell'Oval all'ingotto. Quest'edizione 2022 di Artissima l'abbiamo concettualmente e tematicamente pensata lavorando con una filosofa americana, Laurie Ann Paul, protagonista della filosofia americana che ci ha raccontato che cos'è un'esperienza trasformativa. Da qui il tema, come spesso facciamo un uso fallace della ragione per anticipare nel presente quanto accadrà nel futuro, i grandi bivi della nostra vita, le esperienze trasformative. Bisogna accettare, dice Laurie Ann Paul, che esiste l'ignoto, la scoperta dell'ignoto, le rivelazioni. Bene, la nostra sfida è raccontare l'arte attraverso l'ignoto. L'arte è un ignoto. Chi frequenta l'arte, anche un semplice appassionato, sa che nessuna opera è sostituibile, che è quello che noi cerchiamo dall'arte, da una mostra, da una fiera, da un concerto, ha valore per la nostra vita, perché non lo conosciamo in anticipo, lo desideriamo, desideriamo trasformarci attraverso l'arte. Una trasformazione che le gallerie partecipanti provano a suscitare attraverso progetti pensati espressamente per la fiera, muovendosi a volte su terreni ambigui e affascinanti, per esempio con le fotografie narrative di Elisa Sighicelli o con i simboli di Davide Raimondo che descrivono un materiale e sono fatti dello stesso materiale, o ancora con quelle finestre spalancate su tempo e storia, che sono i lavori di Gian Maria Tosatti. La ricerca, insomma, ma anche il mercato, i suoi numeri, le sue aspettative, 175 gallerie, 42 prime partecipazioni, espositori da 28 paesi, con il 59% di presenze straniere. Si indaga l'ignoto, si diceva, ma lo si fa da una prospettiva internazionale, con una postura curatoriale che già di per sé è una forma di respiro estremamente lontana da provincialismo e banalizzazioni. Il collezionista, fidelizzato ad Artissima, sa che viene qui perché incontrerà gallerie artistiche ancora non conosce e questo premia perché Artissima cerca scoperta e non conferme. Main partner della fiera, per la terza volta, è Intesa San Paolo, che ha portato all'OVA le fotografie di Gregorio Chiudson e che alle Gallerie d'Italia di Piazza San Carlo presenta un progetto dedicato ai film d'artista. La consapevolezza piena delle proprie collezioni, il valore storico, critico, artistico, culturale, ma anche economico, impone ad un collezionista istituzionale anche il dovere di continuare a studiare. Continuare a studiare significa supportare quei luoghi che in Italia fanno cultura e fanno arte contemporanea e credo che Artissima ne abbia un primato riconosciuto. Un primato di cui è bello e interessante fare esperienza, provando a immaginare di essere in una fiera, ma anche in un grande museo mobile, imperfetto, incerto e per questo decisamente stimolante.